In politica esistono anche le ragioni della propaganda, del caratterizzarsi, del farsi riconoscere, quindi è inutile fare del moralismo o fare scioccamente e criticare questo aspetto, è normale. Ed è anche abbastanza evidente che da una parte la Lega si è intestato la rappresentanza dell'esclusività della cittadinanza, della difesa dell'italianità e dall'altra parte il periodo democratico, la sinistra in generale, si è intestato invece l'attenzione ai nuovi cittadini, come si può diventare cittadini italiani con quella roba che è stata chiamata a mio avviso molto impropriamente ius soli, dico molto impropriamente, parentesi velocissima, perché lo ius soli non è un diritto dei popoli o un'idea di liberazione, era l'esatto opposto, si dice in latino perché nell'impero romano era il diritto dell'occupante, era il diritto di chi ha il potere, non è che se avevi lo ius soli potevi diventare senatore romano, e che siccome c'era lo ius soli dovevi dare i soldi all'imperatore, è una cosa un po' diversa, chiusa parentesi, vabbè ma santo, i nomi lasciano il tempo che trovo. Al di là della propaganda però, forse la soluzione di questo aspetto del problema non è poi così distante, perché io credo che in realtà ci sia convergenza su molte cose che sono le più importanti. Primo, tutti i minorenni che si trovano in Italia, che ci siano nati o che si arrivino da altrove, hanno tutti esattamente gli stessi diritti e le stesse tutele. Questo già la legge lo prevede, magari non è esattamente così nella realtà, e quindi bisogna lavorare a quell'aspetto, ma questa la legge già lo prevede. Fino al 2016 c'era un problema per i minori non nati in Italia o figli di cittadini non italiani, quindi senza la cittadinanza italiana, perché non potevano iscriversi alle federazioni sportive. Dal 2016 è stata fatta una legge per cui sì, invece possono fare anche questo. Quindi non c'è nessuna differenza. Secondo aspetto, come c'è una parità assoluta e per carità deve essere non solo difesa, ma inverata, nei diritti e nelle tutele dei minori deve essere, cioè ci sia e c'è già nella legge, una parità dei doveri delle famiglie. Per esempio il dovere di mandare a scuola i bambini, per esempio il dovere di fare le vaccinazioni che sono previste per legge, visto che è un tema di moda. Perché i diritti, c'è sempre il lato dei doveri, qua si parla solo dei diritti e non si parla mai dei doveri. Poi ci sono gli aspetti relativi al diventare cittadini italiani pienamente, che questo è possibile solo nella legge attuale al raggiungimento del diciottesimo anno di età. Cosa manca a un non cittadino rispetto a uno che è cittadino al diciottesimo anno? Il diritto di voto. Siccome il diritto di voto, comunque anche gli italiani lo prendono a diciotto anni, non è che se la cittadinanza arriva a diciotto anni cambia qualche cosa di profondo, ma c'è un aspetto che non va sottovalutato ed è un aspetto di diritto molto importante. Perché se io sono figlio di due cittadini che non hanno la cittadinanza italiana e che quindi in qualche modo rispondono ancora anche alle leggi del loro paese, posto che sul territorio nazionale italiano valgono le leggi italiane, è questo che è un conflitto, che è un conflitto notevole, che può riguardare per esempio la separazione di quei due genitori o altre vicende ereditarie, per esempio. Quale diritto? Quello italiano. Se invece la cittadinanza arriva al diciottesimo anno d'età, il problema è risolto per il semplice motivo che sei maggiorenne, non dipendi esclusivamente dal diritto del paese nel quale hai scelto di essere cittadino. Ma questo è complicato. Ha detto il sottosegretario agli interni, Molteni, che è un esponente della Lega, che si rende conto che lì c'è un problema burocratico al diciottesimo anno e che bisogna sveltire le pratiche. Prendiamolo in parola. Prendiamolo in parola. Chi ha fatto le scuole in Italia, ha maggior ragione naturalmente, chi è nato in Italia, al diciottesimo anno d'età glielo diamo a vista la cittadinanza. E sei città? Basta che me la chiedi, naturalmente. Devi essere interessato ad averla, perché potresti essere invece interessato a rimanere cittadino in un altro paese. La vuoi? Perfetto. Te la diamo a vista. Ma non è questa la gran parte della soluzione del problema. perché da zero anni a diciotto l'idea che ci debba dare per forza la cittadinanza e per diritto di nascita da zero anni a diciotto non fa nessuna differenza. Zero. Zero differenza. Allora, va benissimo nelle ragioni della propaganda, ma se posiamo un attimo le bandiere e calmiamo gli sventolatori e ci occupassimo della questione nella sua concretezza, forse potremmo smettere di parlarne e risolverla. Naturalmente non è la soluzione dell'intero problema immigrazione, ma quello della cittadinanza sì.